La Bibbia ci dice che Gesù ha visto, si è importato e ha toccato e la Bibbia dice che con il tocco di Gesù quello che è stato in falenza deve imparare e portando la cassa alla morte non può fermarsi magari per la storia, magari per la storia, magari che sta portando avanti, magari sta andando avanti di male in pezzo con la storia il Signore sta dicendo, prepara, vai parar, fermati, preparati perché tutto si fermerà, vai fermare tutto Oh alleluia, gloria al rio Oh alleluia, gloria a Gesù La Bibbia ci dice che dopo di vedere, dopo di s'importare e tocare e dopo che Gesù ha visto, dopo che Gesù sia importato e dopo che Gesù ha toccato Gesù ha la ultima azione La Bibbia ci dice che Gesù comece a parlare e quando leo il contesto e quando noi leggiamo il contesto biblico você vai percebere che noi riusciamo a capire che tutte le azioni di Gesù fino a qui foi para con una mulher e fino a questo momento sono stata con una donna ma da questo momento in poi l'azione di Gesù è come un morto che era la prossima morte cosa significa questo? nel momento che il Signore parla con noi ma arriverà un momento che Dio parla con il nostro impossibile ci sarà un momento dove Dio tratta con noi ma ma in un momento Dio vai trattare con il nostro problema Dio arriverà un momento che tratterà con il nostro problema mentre tu sei qui Dio sta trattando conti Dio sta trattando con te ma prepara perché arriverà un momento che Dio tratterà direttamente con il nostro problema e tu vedrai e tu vedrai un milagre di Dio che Dio si creda nel mio papà alleluia 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 ma lo interessante è che il Signore Dio dà una ordine lui dice così lui dice così menino levanta fa giù lui stava parlando con il morto lui stava parlando con il morto non fa sentire ma è quasi difficile ma nessuno parla con il morto ma Gesù parla ma Gesù parla ma Gesù sta dicendo io parlerò con quel morto e quando io parla vai ter che mudar e quando io parla con il tuo problema il problema cambierà quando io parlerò ci sarà trattare movimento quando Gesù parla quando Gesù parla con quel morto quando Gesù parla con quel morto quando la parola di Gesù entra quando la parola di Dio entra dentro quella situazione la propria morte intende non c'è più spazio per lei Dio non ha parlato con il morto Dio non ha parlato con il morto lui ha parlato con il morto ma la morte è uscita dal fanciù Dio ha parlato che farà così lui parlerà con quello che è morto nella sua vita e la morte capirà e non c'è più spazio per lei Dio parlerà con quello che è morto nella sua vita Dio parlerà con quello che è il fizzio in te e il proprio fizzio che è capirà e dirà non c'è più spazio per lei Dio sta parlando con quello che è nato in te Dio sta parlando con quello che è nato in te e la nato in te e lo spirito che c'è dentro capirà e capirà che non c'è più spazio Dio sta dicendo ci prepara perché io interrogo la parola e quello che è morto e poi che è vinta deve avere vinta e vinta in abbondanza e vinta in abbondanza e tu non ci sarà più necessità che sotterrerai perché io interrogo la parola perché io interrogo la parola Grazie a tutti